La notte scorsa la squadra mobile ha proceduto alla cattura del latitante Di Martino Antonio, già gravato da precedenti penali, destinatario di un'ordinanza di custodia catelare in carcere emessa nel 2018 dal GIP di Napoli, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Di Martino è ritenuto ai vertici dell'omonima organizzazione criminale, operante principalmente nel territorio ridosso dei Monti Lattari e in particolare nei comuni di Gragnano, Pimonte e Castellammare di Stabia. Il ricercato già in passato è sfuggito ai tentativi di cattura da parte delle forze dell'ordine. Nel 2013 si diede alla fuga dopo aver violentemente aggredito una pattuglia dei carabinieri che lo aveva fermato per un controllo. Nel 2015, intercettato da una pattuglia della polizia stradale, riuscì a fuggire dopo essersi lanciato nel vuoto da un cavalcavia dell'autostrada A16. Nel 2018 si è sottratto all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare per cui è latitante, gettandosi nell'area boschiva adiacente. Le lunghe indagini della squadra mobile hanno evidenziato che saltuariamente l'uomo ritornava presso le abitazioni riconducibili al suo nucleo familiare, sito nel comune di Gragnano. Proprio in quei luoghi dove l'intervento è reso particolarmente difficoltoso dalla fitta boscaglia, dalla presenza di cancelli agli ingressi, di cani di grossa taglia e di sistemi di videosorveglianza, questa notte è stato tratto in arresto dagli investigatori. Al lato dell'intervento, l'indagato si è dato nuovamente alla fuga, nascondendosi all'interno dell'area boschiva adiacente all'abitazione, dove è stato rintracciato dopo circa due ore.